Ehi Kirby come va amico? Vedo che stai camminando Io ho deciso di farmi un regalo e mi sono comprato un'auto Una Tesla se non l'avessi un dato Oh oh Kirby so che sei invidioso Cosa sta facendo Kirby? Smettila! Smettila! Oh mio Dio, 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 oh mio Dio Ci deve essere una velocità da qualche parte Ehi cos'ha a te? Hai appena attivato la modalità di autodistruzione di Tesla Ecco tre modi Ciao